La Chichi Pollini, Kirsten Pollini al comando davanti a Sofia Brusca del San Giovanni Dupatotto che però all'esterno, all'interno, arriva la Chiara Frallina. Oh, superate entrembe dall'altra Chiara, la Mattei. Grande prestazione della Chiara Mattei che si infine in seconda posizione davanti a Chiara Frallina. Quindi terza posizione per il Besnato. Batteria 43, open donne 15 più, Marika Gagliazzi immediatamente al comando. Seconda posizione Anna Grigoletto del team Panther Boys Padova. Poi la Letizia Benzoni che però si fa sfilare perché c'è l'atleta della Libertas Lupo a Tuttini a Sofia Dragone con la tabela numero 802. Dovrebbe essere lei in terza posizione. Un così. Batteria 44, categoria lievi, Bardelloni, Pitarello, Varbeno, Vansecchi, Maggi, Vilancetti, Cusimano, Tormani. Cusimano Tormani.